Musica Buongiorno cari spettatori, bentrovati ad una nuova edizione del TG Mattina. Oggi è martedì 15 febbraio 2022, San Faustino. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola. Abbiamo la stampa, liste d'attesa zerate a giugno. Sanità si riparte da una promessa. Il direttore generale della Maggiore, fondamentale la collaborazione tra ospedale e privati, più complesso il riavvio delle sale operatorie dell'Asla Novara. Poi le celebrazioni per il 78esimo anniversario della battaglia di Megolo a Pieve Vergonte. E Granozzo, le lunghe file di pali penzolanti a bordo strada, sono pericolosi il grido d'allarme del sindaco di Granozzo, Paolo Paglino. Schiamazzi al bar Coccia, finisce in nulla il processo che aprì il caso Giordano. Prescritto il reato del titolare, assolto il suo vice, dai rumori si arrivò a indagare per corruzione. E poi protesta, non resteremo fuori dalle aule. Laura Ferrari ha presentato un esposto denuncia in procura, l'avvocato Novarese contro Draghi, perché da oggi si accede al tribunale e negli altri edifici delle istituzioni con Green Pass rafforzato. La sanità che riparte via libera della regione Piemonte per riprendere i ricoveri e le visite non urgenti. Il direttore generale del Maggiore Zulian dice a zerare le liste d'attesa entro giugno. Corsa al vaccino per over 50, mille in più in un solo mese, da oggi l'obbligo di Green Pass rafforzato sui posti di lavoro. La Daronna si rinvia il tredicino, la giostra delle polemiche fermata dal sindaco. Gus Meroli aveva annunciato l'evento dall'11 al 27 marzo, ieri la nota di Monti, ancora troppi rischi per la salute, dunque non si farà. Una donna per Borgomanero, vorrei cittadini più felici. Nicoletta Bellone, candidata di Una Civica, uniamo i progressisti e battiamo il centrodestra. Poi un video per rilanciare il turismo a Invorio, l'iniziativa del Comune e le celebrazioni per Santa Giuliana a Borgolavezzaro, la festa con i neo diciottenni, una ricorrenza che è molto sentita in paese. Veneto Banca in 2000 chiedono risarcimenti, siamo nel VCO, gli ex correntisti ritengono di essere stati truffati, anche molti clienti della Popolare di Intra. Poi si ritorna alla tragedia del Mottarone, il giorno della verità per la testa fusa, venerdì sarà analizzata. Villa Dossola, altra denuncia per il ladro seriale di auto a Intra, è finito fuoristrada alla rotonda di Corso Mameli. E poi Vandali a Domodossola, preso ancora di mira il cantiere di via Rosmini, in zona c'è solo una telecamera. Altre notizie dal VCO, a Omenia i giovani del liceo celebrano Piero Gobetti, testimone della libertà, domani iniziative dedicate al filosofo torinese a cui è intitolata la scuola. Con video testimonianze si ripercorre l'impegno contro il fascismo. Donne e leadership, una borsa di studio del Soroptimist Verbano, il corso all'Università Bocconi di Milano. Omenia, l'eredità di Beltrami, lottiamo per la democrazia, la cerimonia per il 78esimo dell'uccisione del capitano e dei suoi uomini. E da Megolo, appello alla pace, la guerra è sempre una sconfitta, Pieve Vergonte, poi il ricordo all'Alpe Cortavolo. Le sorprese della siccità, dal canale di Fondotoce emergono le maxicozze, la scoperta durante le operazioni di pulizia del corso d'acqua. Intanto si continua a lavorare per le visite guidate con la barca elettrica. Balletto di petizioni sulla sanità, ospedale unico, no, meglio tre, a Verbani alla nuova iniziativa di Giorgio Tigano e Vladimiro di Gregorio. Poi l'economia del nord-ovest, il tessile è svolta, dopo due anni di stop ripartono investimenti ed export, il fatturato segna più 30% sul 2020, il sostegno di intesa. E poi lo sport che deve avvicinare i giovani al mondo del lavoro, Luca Murta, AD del cappellificio biellese e cestista, e l'accordo tra il basket laniero e gli imprenditori, una nuova via per trovare lavoro. E' l'appuntamento con la cultura, gli spettacoli, Momo ritorna a teatro con l'armadietto cinese della regista Maria Teresa Meardi. Vi spiego Verga e lo spirito umano, l'insegnante in cattedra per i lettori, l'insegnante è Augusto Ferrari. Domani è il circolo del broletto, il via al via, gli incontri. Scavando nei testi troveremo spunti sulla condizione dei giovani di oggi. Il film Opera Cassandra replica domani al Coccia e poi a Oleggio il nuovo romanzo dello scrittore e autore teatrale Aquilino Salvadore. Dalla scuola media a pagine per ogni età, Aquilino narra un amore nell'Eden Sud. Intra, viaggio tra i ricordi con storie di altri nonni, con Cristina Barberis che cura il progetto al centro Rosa Franzi d'Intra. Giulia Zanoletti, l'artista vive e lavora a Santa Maria Maggiore e racconta con i disegni i mesi duri della pandemia e così dice Strappo un sorriso. Pallanza al Museo del Paesaggio, la nuova performance di Cross, gli eventi nel weekend, rinviato invece Party Girl. E poi lo sport, Novara Vola e festa nel segno di Udovicic con l'Imperia. In gol Bonaccorsi e Vutai, prima del match intitolata la curva alla bandiera azzurra, ottava vittoria consecutiva per la capolista. Stresa, basta una rete per allungare, un successo dedicato a Mister Rotolo in eccellenza, il tecnico alle prese con problemi di salute. Champions, serata decisiva, Igor Mosca vale il primato, stasera alle 21, l'ultima partita del girone eliminatorio. Giudici conquista il titolo regionale di Costa Campestre tra le donne, terza Mazzolini. Ossolani, ok, in Coppa Italia, Matli rimonta d'argento, doppio quarto posto di Balmetti nello Cinordi con i due giovani protagonisti nel weekend. Al Schilpario, i risultati migliori nelle gare di lunga distanza in tecnica classica. I nazionali, la stampa, sfida globale per evitare la guerra. In Ucraina, Scholz tenta la mediazione, Lavrov apre, ma l'intelligence USA lancia l'allarme, sempre più truppe russe al confine. Il cancelliere tedesco dice l'ingresso di Kiev nella NATO non è in agenda, gli americani spostano l'ambasciata a Leopoli. Poi la scelta di Laura, in lotta con la sclerosi multipla, oggi la consulta decide sul fine vita. E poi ancora, Corriere della Sera, Ucraina, spiragli e timori, Lavrov un accordo possibile, Magliusa, Mosca ammassa le truppe. Il cancelliere Scholz, l'ingresso di Kiev nella NATO non è in agenda, Washington sposta intanto l'ambasciata, come abbiamo visto. E poi in centropagina, riunito il cast di Maledetto il giorno che t'ho incontrato, Verdone e Margherita Bui, dopo 30 anni dal film. Avrei pensato ad una foto principale dedicata alla giornata mondiale contro il cancro ai bambini. Era stata annunciata ieri dagli quotidiani. Muore a 16 anni durante lo stage nello schianto del furgoncino, finito contro un albero ad Ancona. Poi l'inserto buone notizie, ci si chiede chi è che non valorizza i beni confiscati, che fine fanno perché spesso non vengano utilizzati. Italia Oggi bonus casa tutto congelato, da una ricognizione d'Italia Oggi emerge che le banche e gli intermediari finanziari non acquistano più i crediti di imposta, i professionisti chiedono più controlli preventivi. Il sole 24 ore, Ucraina, la Russia riapre al dialogo, ma sui mercati prevale la volatilità. E poi anche i bonus edilizi in primo piano. Diamo uno sguardo al meteo questa notte, qualche fiocco di neve sulla nostra città. Diversa la situazione in altre zone del nord Italia, soprattutto in Lombardia. Nevecate ben più consistenti. Per quanto riguarda la giornata ancora qualche fiocco miste a neve nella mattinata. Poi cielo poco nuvoloso, poco nuvoloso anche domani. Temperature di 0 gradi come minima e poi avremo i 12 gradi come massima. È davvero tutto, vi auguro una buona giornata e vi aspetto domani con il TG Mattina. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.